Ma senz'altro, l'Avellino in questo momento deve cercare di raccogliere tutte le forze perché deve approfittare di questo appannamento che sta vivendo la Ternana e deve continuare a credere nelle proprie possibilità. Sette punti non sono pochi ma non sono nemmeno moltissimi, quindi si possono recuperare, tanto più che in questo momento vedo il Bari in netta difficoltà e quindi credo che la lotta poi si sia determinata tra Bellino e Ternana. Non fu lui che mi privò, fu io che praticamente volevo andare a preparare la squadra a Roma, alla Borghesiana e fu un motivo per separarci. Però io rinunciai a due mensilità, però fu io che detti le dimissioni, io non sono stato allontanato. Però diciamo che quasi l'ha misa nelle condizioni di darle, insomma. No, no, con l'esperienza che poi ho maturato, quell'errore non l'avrei commesso, sarei dovuto rimanere.